All'ippodromo sesana di Montecatini si sta avvicinando a grandi falcate la notte di Ferragosto, quella più attesa dagli appassionati di corsa e di cavalli e non solo. Intanto però sabato sera l'anello termale offrirà un gustoso antipasto con la corsa delle pariglie, in pratica la sfida, unica nel suo genere, è fra delle specie di bighe e due cavalli attaccati. Il trotto montato, con il driver e in questo caso trasformato infantino in groppa all'animale, ma con l'andatura tipica di chi solitamente è abituato a trainare il salchi. E' il premio delle stelle, una gara a fini benefici, con una parte delle scommesse che verrà devoluta ad un'associazione onlus che vedrà in pista pilotare i cavalli, rigorosamente senza frustino, personaggi molto conosciuti del mondo dello sport e della politica dello spettacolo. Il tutto contornato da una grande accoglienza fatta di giochi per bambini, specialità gastronomiche e da varie iniziative di intrattenimento.